E dopo aver umiliato i campioni d'Europa, stasera si uffa contro l'Inter. Come on Arsenal, io non sbaglio un pronostico. E questa sera è netto il 3-1 dell'Arsena a giocatori più nella bolletta. E come poteva vincere l'Inter questa sera? Ovviamente con un regolino, perché ormai i vostri confini si sono ampliati. Dovevamo perdere 3 a 0. Passini! 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 Dove siete Gobbini? Come mai state rosicando così tanto? Cos'è successo? Cos'è successo, Gobbini? Cos'è successo? Noi abbiamo rubato, però abbiamo vinto. Voi invece avete rubato, con il rigore di Consesau che si lascia andare, cerca, l'uomo allarga la gamba, simulazione netta, però voi rubate per pareggiare. Noi rubiamo per vincere, voi rubate per pareggiare. Pensa quanto siete sfigati. Pazzini, Pazzini, oh, Gobbini, Gobbini, com'è? Avete digerito la pera che abbiamo dato ieri all'Arsenal? Abbiamo rubato, che cazzo me ne frega? Abbiamo vinto tre punticini a casa, a casina. E voi, sia in Europa che in campionato, ci baciate il culo. Ci baciate il culazzino. Avete capito o no? Ve lo devo rispiegare, ve lo ridico. Gobbini complottisti, Minalini complottisti, voi che state sempre a piangere. Ci dovete baciare il buco di culo. Vi voglio vedere tra dieci anni con il divertino, così. Vado con il diambulatore a portare in giro. Vado a vedere l'intercheruta. Vabbè, bacchiamo tutto. Noi abbiamo vinto, noi abbiamo vinto. E voi state a rosicare, rosicare. Ma il bello di vedere i vostri video quando l'inter vince con un episodio, cioè, non c'è più soddisfazione che, non so, è come chiamare la Belen. È come quasi chiamare la Belen, non come, perché vuoi mettere una bella figa con il bandito o l'altro di Agropoli o quello di... Vabbè. Voi, a vedere i vostri video, che state male, perché io lo vedo che state male quando l'inter vince con l'episodio. È una goduria pazzesca. E ripeto, Gobbi, soprattutto a voi Gobbi, in Champions League, tanto non è vostro... Cioè, che cazzo fate anche la Champions League? Voi avete partecipato, vi hanno dato 40 milioni. Boh, siete a posto. Tanto la Champions League non è roba vostra. Non è roba vostra. Non state a parlare dell'Inter. Perché tanto in Champions League non è roba vostra. E vi ripeto, voi avete rubato per pareggiare. Almeno noi rubiamo per vincere. Ok? Ok? Poi, veniamo anche voi, milanisti. Allora, intanto vi dico una cosa. In campionato siete sotto al nostro culo. Sia Juve che Milan. In Champions League siete sotto al nostro culo. Sia Juve che Milan. Ok? Ma il problema più grosso è che voi quest'anno non vi dovreste preoccupare dell'Inter. Perché per voi l'Inter è irraggiungibile. Cioè, capite? Noi siamo troppo più forti di voi. Voi siete sesti e settimi. Quindi uno sta giocando per la Conference League e l'altro sta giocando per l'Europa League. Quindi voi impegnatevi e concentratevi a guardare la Fiorentina, la Lazio, il Torino, il Bologna, il Verona, l'Empoli. Voi dovete guardare quelle squadre lì. Non state più a guardare l'Inter. Non è roba per voi. Cioè, siamo di un altro gradino noi. Capito o no? Quindi voi vi tocca stare lì a guardare quelle squadre lì. Perché se no rischiate di non andare in Conference League o in Europa League. Cioè, ma voi tu prova a pensare. Una squadra come la Juventus che ha speso 250 milioni ed è sesta in classifica che lotta per l'Europa League o la Conference. Il Milan che in due anni ha speso fior fior di milioni è settimo e lotta per la Conference e l'Europa League. Noi che non abbiamo speso una lira. Hai capito? Siamo là che siamo davanti in Champions e davanti in campionato. Ma come mai? E come mai? Direbbe il nostro amico Tom Lojuventino. E come mai? E come mai? Cioè, vi rendete conto che voi piangete, piangete. Avete speso 250 milioni per pareggiare con il Lille. Per pareggiare con il Cagliari. Per pareggiare con l'Empoli. Ma non vi vergognate un po' Gobbi di guardare gli altri, giudicare gli altri quando voi fate più schifo che mai. Abbiamo preso Tiago Motta, un ex interista del triplete. Eh, ma adesso giochiamo, facciamo il calcio bailando, il nuovo Pep Guardiola, faremo un calcio strepitoso. C'è gente che lo vuole già cacciare via, Tiago Motta. C'è gente che lo vuole già cacciare via, Tiago Motta. C'è gente che lo vuole mandare via. Pensa come siete ridotti. 250 milioni per poi dire Tiago Motta non è buono. Giocate di merda. E i giocatori che avete preso sono tutti delle mezze pugnette. A parte con Sisao. Il resto è rovetta. È rovetta da 10, 15, 20 milioni. Non da 60 milioni. Copp Mine. Ho preso Robo. Abbiamo preso Robo. Ho preso Robo. Ho preso Copp Mine. State attenti, ha giocato tre anni nel Real Madrid e ha vinto tre Champions. Ha giocato due anni nel Liverpool e ha vinto altri due Champions. C'è cazzo. Avete preso un giocatorone. Copp Mine 60 milioni dall'Atalanta. Zero gol. Zero gol. Zero come la farina. Zero come la farina. E voi? No. L'Inter ruba. L'Inter ruba. Se l'Inter ruba. L'Inter ruba. Cioè se Copp Mine non fa gol. O Vlauvi si mangia tutti quei gol. È perché l'Inter ruba. Dovete. Io lo so che voi pensate. Che voi siete talmente ignoranti. Che siete più indietro delle palle dei cani. Voi siete indietro più delle palle dei cani. Hai capito? Voi siete troppo indietro. Voi non potete parlare di calcio. Voi dovete guardare. Che ne so. Le freccette. Quegli sport lì. Le bocce. Lasciate stare il calcio. Non è per voi. Ma non perché non ci capite niente. Sì. Non ci capite un cazzo. Però. Rosicate troppo. Voi rosicate troppo. E vedere voi che rosicate così. A noi. Ci fate fare tante di quelle pugnette. Seghe. In romagnolo. La pugnetta. Ti sei fatto una bella pugnetta. Si ha fatto una pugnetata. Guardè. A vedere il milannino che si sveglia la mattina. Piange perché l'Inter ha vinto. E perché poi gli interini gli vanno a scrivere. Capito? Non capisci un cazzo. E i gobini là che fanno. E sono. Voi siete l'andrangheta. Siete la mafia. Adesso ci fate caso che per offendervi. Perché pensano di offenderci. Capito? Vi chiamano mafiosi. Andragatisti. Come cazzo si dice. Non me lo fottono cazzo. Comunque. Stanno. Sono. Sul ridicolo. Non sanno più che pesce pigliare. Io ve lo dico. Prendete un pesce. Ma non infilatevelo in bocca. Infilatevelo nel culo. Forse. Vi svegliate. Gobini. Milanini. Ciao veda. Rosicate fino alla fine.